Sarà nuova banca Etruria dal primo marzo la concessionaria del servizio di tesoreria comunale. È stato infatti firmato il contratto che lega comune e istituto di credito fino al 31 dicembre 2021. Il servizio di tesoreria effettua pagamenti ed incassi per conto del comune di Arezzo e delle due istituzioni in biblioteca e giostra del Saracino. Noi affidiamo nelle mani di un istituto bancario storico per la città la tesoreria del comune a seguito di una gara d'appalto, quindi con una procedura di evidenza pubblica, alla quale peraltro hanno partecipato solo loro, quindi si sono resi disponibili a produrre un servizio che sappiamo non essere eccessivamente remunerativo. È un piacevole ritorno. Banca Etruria era già stata nel passato tesoriere del comune di Arezzo, poi c'era stata una lunga parentesi con affidamento ad altro istituto bancario. Questo avviene in un momento molto particolare per Banca Etruria, lo sappiamo benissimo, ma forse questo legame con il comune di Arezzo potrebbe essere letto anche come una corretta veicolazione del messaggio che questa banca, quale che ne sia il nome futuro, rimarrà ancorata saldamente al territorio, che è poi quello che l'amministrazione comunale vuole fortemente. Sarebbe stata una stortura che non lo avessimo fatto. Come è stata una stortura, secondo me, per tutti quanti altri istituti bancari, nei momenti difficili della nostra vicenda, hanno sempre dichiarato di essere la storia, di essere la banca del territorio e poi non li abbiamo visti né a questo tavolo e neppure all'apertura delle buste. Quindi questo, al di là delle parole, ma coi fatti, dimostra qual è la realtà di Banca Etruria.